Successo per il convegno dell'associazione Cuochi Salernitane, che ha organizzato la biennale manifestazione giunta alla 17esima edizione. Quest'anno si è svolta l'Istituto Alberghiro Ferrari di Battipaglia, con sette concorrenti finalisti del concorso gastronomico regionale, profumi e sapori della tradizione campana. Gli alunni hanno elaborato una ricetta di cucina a base di prodotti del territorio di provenienza. I saluti sono stati affidati alla dirigente scolastica, professoressa Daniela Palma. Poi una importante conferenza sulla dieta mediterranea a cura del professore Vincenzo Lovisi. L'importante evento di ieri si è concluso con la serata di gala. Siamo particolarmente onorati stamattina di ospitare questa bellissima iniziativa messa in atto, messa in campo dall'associazione Cuochi Salernitani. Per questo voglio ringraziare l'associazione e la persona del presidente Alfonso Benincasa per aver scelto la nostra scuola. Ci sarebbero stati tanti altri istituti magari con di più alta tradizione rispetto all'istituto Ferrari che è relativamente giovane con riguardo all'indirizzo IPSEO, all'indirizzo alberghiero. E loro hanno voluto farci questo onore stamattina e stasera anche di sceglierci per questo evento che ormai è diventata una tradizione per la cucina salernitana. Quindi la nostra scuola ringrazia tutti loro per averci dato questa opportunità che è di grande valore per i ragazzi dal punto di vista educativo ed anche di esempio. Perché questa mattina si alterneranno, così come questa sera, chef di grande valore nel nostro territorio. Che non potranno fare altro che accrescere il valore dei principi di educazione alimentare che ogni giorno cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi.